Emergenza Covid continua la corsa del virus, sono 208 le positività di oggi a fronte di oltre 1700 test processati. Questo pomeriggio il commissario Figliuolo, il capo della protezione civile Curcio, saranno agli abvaccinali di potenza in Matera per fare il punto sullo stato dell'arte della campagna delle vaccinazioni. In attesa di scoprire se all'esito della cabina di regia di domani la Basilicata tornerà in zona gialla già dal prossimo 26 aprile o resterà in arancione, altri tre comuni finiscono in zona rossa, salgono così a 12 centri lucani sottoposti alle massime restrizioni. Per scongiurare il pericolo che i centri di accoglienza migranti possano diventare con la stagione della raccolta ricettacolo di contagio, la CISL di Basilicata lancia una proposta alla regione, subito un progetto di qualità del lavoro agricolo per sconfiggere il caporalato. Stellantis, il consiglio regionale di ieri, ha approvato una risoluzione che impegna la giunta a farsi promotrice di un pressing con il governo nazionale a garanzia della tenuta occupazionale. Lo sport torna allo spauracchio delle partite truccate in Serie D relative alla stagione 2018-2019 tra gli incontri sospetti, anche Troina Rotonda intanto ne recupera un pareggio e una sconfitta per le Lucane. Basket, la Basilia Potenza continua a stupire, seconda vittoria consecutiva e sabato la sfida alla capolista Salerno. Buongiorno dalla nuova TG, in primo piano c'è l'emergenza coronavirus, ancora 4 decessi dopo i 5 inseriti nel bollettino di ieri e risale anche il numero dei contagi, 200 gli ultimi scovati. La buona notizia è il calo significativo del dato dei ricoverati e intanto cresce l'attesa per la visita di questo pomeriggio a Potenza e a Matera del capo della protezione civile nazionale Curcio e del commissario Figliuolo, i particolari nel servizio di Michelangelo Russo. 250 tamponi, meno e 30 positivi in più a distanza di un solo giorno e purtroppo anche 4 decessi a Ferrandina, Figliano, Il Sina e Melfi. 492 ora le vittime covid dall'inizio della pandemia. Cala in maniera significativa il dato dei ricoverati in ospedale con 12 pazienti nelle terapie intensive. Torna a salire però, come dicevamo, l'incidenza dei casi scoperti rispetto ai test esaminati. 201 i positivi di giornata a fronte di 1769 tamponi processati, 57 i guariti. Tasso di positività nuovamente all'11%. 5744 i casi attivi, ancora contagi tra i più giovani. A Craco, prorogata la chiusura delle scuole fino a sabato, ancora positivi gli alunni ai quali era stata diagnosticata l'infezione da covid-19. E si attende l'esito dei tamponi somministrati ai compagni di classe e al personale docente. Clamoroso disservizio invece a Bernalda, dove sono gli 11 gli ultimi casi accertati. Lamentele da parte dei genitori di alcuni alunni recatisi a Tinchi nei giorni scorsi per sottoporsi al tampone molecolare che, per ragioni ignote, non sono stati eseguiti pur calendarizzati. Il commissario straordinario, Maria Rita Iaculli, esprime in una nota grave disappunto per il disagio arrecato. In evoluzione anche la situazione a Montalbano con alcune classi costrette all'isolamento. Rio Nero e Matera però si confermano i centri più colpiti in questa fase. 24 i casi nel comune dell'area nord, 19 nel capoluogo materano, 15 a Potenza, 12 a Melfi e Pisticci, oltre che Castelluccio Inferiore, 11 a Lavello. Proseguono intanto le attività vaccinali, oltre agli 11 punti territoriali già individuati per le prenotazioni online, disponibili altri 5 hub nei comuni con oltre 10.000 abitanti, Avigliano, Lavello, Rio Nero, Bernalda e Montescaglioso. Da ieri invece, dopo i problemi registrati in piattaforma ai pazienti affetti da gravi forme di obesità, è stata concessa la massima priorità, pur se non prenotati. Basta presentarsi presso il punto vaccinale più vicino, semplicemente presentando la certificazione rilasciata dal medico di base. E intorno alle 15, infine, è previsto l'arrivo a Matera del generale Figliuolo per fare il punto sulla campagna vaccinale in Basilicata. Più tardi il commissario raggiungerà potenza. Il Consiglio dei Ministri nella tarda serata di ieri ha approvato il nuovo decreto legge per le riaperture a partire dal prossimo lunedì 26 aprile, brazzo di ferro, sull'orario del coprifuoco confermato alle ore 22, scuole superiori da lunedì 26, in presenza almeno al 70%, mentre in zona rossa al 50. Capitolo ristorazione, sarà possibile sedersi ai tavoli al chiuso dal primo giugno, mentre già da lunedì 26 in zona gialla i ristoranti all'aperto potranno restare aperti a pranzo e a cena. Dal 15 maggio riaprono le piscine all'aperto il primo giugno, le palestre sul fronte degli spostamenti invece fra regioni gialle e rosse, solo con l'autocertificazione verde. E intanto in attesa di scoprire se all'esito della cabina di regia di domani la Basilicata tornerà in zona gialla già dal 26 aprile o resterà in arancione, altri tre comuni finiscono in zona rossa. Salgono così a 12 centri lucani sottoposti alle massime restrizioni. Fabrizio Di Vito. La Basilicata spera nella zona gialla, ma sono sempre di più i comuni che si tingono di rosso a causa dei focolai innescati in molti casi da comportamenti inadeguati durante le recenti festività pasquali. Da oggi, almeno fino al prossimo 30 aprile, infatti, finiscono in zona rossa anche Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore e Lavello. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal governatore Vito Bardi. I primi due comuni erano già sotto monitoraggio da giorni, mentre nel popoloso centro dell'area nord è risultata decisiva l'impennata dei contagi registrata negli ultimi giorni. Restano in zona rossa poi, almeno fino a domenica 25 aprile, i comuni di Atella, Filiano, Palazzo San Gervasio, Rapone, Ripacandida, Rotonda, Ruvo del Monte e Castelmezzano, per i quali la task force regionale indica un trend ancora in aumento che non consente un allentamento delle misure adottate. Pomarico, invece, mostra un lieve miglioramento, ma almeno fino a domenica resterà a sua volta in rosso. Ci sono poi altri tre comuni sotto stretto monitoraggio che rischiano la stretta. Si tratta di Laurenzana, cancellare Rio Nero in Vulture. Il tutto alla vigilia del consueto report del venerdì della cabina di regia, appuntamento molto atteso dal momento che, dall'analisi dei dati epidemiologici, verranno assegnati nuovi colori alle regioni, con più di mezza Italia che dovrebbe passare in zona gialla, ripristinata dal governo con il decreto riaperture, da lunedì 26 aprile. La Basilicata dovrebbe restare in arancione per un'altra settimana, per poi andare in zona gialla da lunedì 3 maggio. Intanto, l'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 14-20 aprile, segnala un calo del 2,3% dei contagi in Basilicata rispetto ai sette giorni precedenti. I casi attualmente positivi su 100.000 abitanti, però, restano sopra quota 1.000. Si tratta del terzo valore più alto a livello nazionale. E per scongiurare il pericolo che i centri di accoglienza migranti possano diventare, con la stagione della raccolta in agricoltura ricettacolo del contagio da coronavirus, la Cisle di Basilicata lancia una proposta alla regione, subito un progetto di qualità del lavoro agricolo per sconfiggere il caporalato. Ce ne parla Isabella D'Andrea. Un progetto di qualità del lavoro in agricoltura in vista della stagione estiva, per sconfiggere il caporalato. Dopo il tavolo di coordinamento regionale, la problematica è tornata a galla, soprattutto in considerazione di un dato di fatto. In Basilicata si continua a dare una risposta occasionale ad un fenomeno ormai strutturato, concentrato in particolare nell'Alto Bradano e nel Metapontino. Ancora una volta, in vista della raccolta agricola stagionale, si prevede di allestire nell'ex tabacchificio di Palazzo San Gervasio un centro di accoglienza per i lavoratori stagionali migranti. Ma i sindacati, in assenza di misure specifiche da parte della regione, lanciano l'allarme. L'anno scorso, evidenziano Gambardella e Cavallo della Cisle, la vicenda del tabacchificio si è trasformata in un problema di ordine pubblico e questo non è tollerabile. Ancora più in considerazione dell'enorme anticontagio. Il rischio di un ricettacolo è concreto. A fronte di una pluralità di fondi che destinano risorse economiche cospicue, tra cui spicca il ponlegalità di 100 milioni di euro per la realizzazione di centri a Venosa, Lavello, Scanzano e per l'ennesima ristrutturazione del già citato tabacchificio di Palazzo San Gervasio, la regione Basilicata a cui spetta il coordinamento delle attività non è ancora in grado di dare una risposta. Pertanto, è la proposta della Cisle, è necessario che la questione dei lavoratori migranti in agricoltura venga collegata ad una risposta permanente in ambito organizzativo di logistica accoglienza e di servizi sanitari e sociali e su questo la tabella di marcia da qui a giugno deve essere incalzante. Si terrà il prossimo 26 aprile davanti alla sede della regione Basilicata la manifestazione di 11 lavoratori disabili ex dipendenti del comune di Pisticci i quali protestano per il mancato rinnovo dei loro contratti scaduti lo scorso 28 febbraio. I lavoratori, nonostante le vane e continue richieste di interlocuzioni con le istituzioni di competenza, chiedono risposte chiare da parte di tutti gli enti interessati. La cronaca la scossa notte a Forenza, tre persone col volto travisato si sono introdotte all'interno dell'abitazione del parroco Don Gilberto per un furto. Il sacerdote, 45 anni, è stato raggiunto da diversi pugni ed ha dovuto ricorrere alle recure dei sanitari. I ladri si sono introdotti all'interno dello stabile da una finestra dell'appartamento contigo a quello del parroco dove vive un'anziana signora a sua volta colpita con un pugno dai malviventi sul grave fatto, indagano i carabinieri. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, a fra poco. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta essere scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Dopo la pubblicità riprendiamo il nostro Tg e parliamo di petrolio al via la fermata del centro Olio Valdagri per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata. E' l'informa che dal prossimo 26 aprile inizieranno le operazioni per la fermata generale del Cova necessaria allo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati e la cui durata è prevista in circa 50 giorni. Le attività di manutenzione prevedono un investimento di circa 140 milioni di euro, e il coinvolgimento di circa 170 imprese e 1.200 lavoratori. Stellantis, il Consiglio regionale di ieri, ha approvato una risoluzione che impegna la Giunta regionale di Basilicata a farsi promotrice di un pressing con il Governo nazionale a garanzia della tenuta occupazionale. Ce ne parla Mariolina Notargiacom. E' stato l'unico punto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale dal quale è emerso un sentimento bipartisan nell'individuare tutte le strategie necessarie affinché la realtà dell'automotive insediata nell'area industriale di Melfi continui a rappresentare un punto fermo per il comparto industriale lucano e per l'economia regionale. La fase pandemica ha complicato e per certi versi compromesso obiettivi e ambizioni di crescita dello stabilimento ex FCA Oggi Stellantis. Dopo la fusione con PSA un legame che avrebbe dovuto rappresentare un punto di forza visto che a gestire il polo lucano sarebbe stato il quarto gruppo mondiale del settore. Qualcosa ha cominciato a scricchiolare e in regione l'attenzione resta alta. In Assise tutti d'accordo sul fatto che il Governo Draghi, assente nel recente confronto dei vertici Stellantis con sindacati e Confindustria, abbia un ruolo più attivo nella vicenda. A chiederlo, aprendo l'assemblea consigliare straordinaria, è stato il Presidente della Regione Vito Bardi. Tutela dell'occupazione e nuovi progetti per un rilancio del sito industriale di San Nicola di Melfi sono stati i passaggi affrontati da tutti i componenti del Consiglio. Si guarda al futuro dunque, le nuove prospettive sono quelle dell'elettrificazione di cui la candidatura dello stabilimento lucano a diventare polo di riferimento con la produzione di batterie e anche di energia all'idrogeno. Servono investimenti e in questo il Governo Centrale e quello regionale devono fare la propria parte anche per ciò che attiene il potenziamento della rete infrastrutturale lucana, di cui la necessità che siano presentate proposte fattibili da finanziare all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poi la proposta di Melfi, quale stabilimento modulare in cui produrre non solo i modelli già esistenti, un distretto tecnologico specializzato sull'automotive che nel futuro sarà sempre più smart e green. I consiglieri hanno impegnato l'esecutivo lucano affinché si lavori ad un'intesa con il Governo Centrale Stellantis. La rilevanza dello stabilimento lucano per l'economia richiede dunque un impegno doveroso da parte delle istituzioni per la difesa dei livelli occupazionali e della produttività dello stabilimento. Se il settore dell'automotive rappresenta una delle quattro componenti essenziali degli asset di sviluppo su cui la Regione ha deciso di puntare, è stato detto, per realizzare la crescita economica sulla base delle risorse europee dobbiamo intraprendere ogni azione utile a tal fine, dalle opportunità derivanti dalla ZES e dalle connesse politiche di agevolazione fiscale. E' stata ritrovata nella tarda serata di ieri Antonietta D'Aloia, la 56enne materana scomparsa da ieri dopo che si era allontanata dalla propria abitazione, senza farvi rientro a segnalarne la scomparsa ai familiari. La donna che vive da sola si trova in buone condizioni di salute. In serata a seguito della denuncia da parte di una delle due figlie alla questura di Matera erano state avviate le ricerche da parte delle forze dell'ordine. La donna è stata rintracciata a casa di un'amica in buone condizioni fisiche la causa del mancato contatto con i familiari. Un cellulare è spento. Il Sina e i carabinieri sorprendono. Un uomo alla guida di un'auto rubata. In particolare ieri pomeriggio in via Protospata i militari hanno intercettato un 25enne di origini romena con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio a bordo di una Fiat Panda rubata. Il giovane è stato quindi denunciato per ricettazione dell'auto rubata lo scorso 27 marzo a San Salvo in provincia di Chieti. L'autovettura è stata sequestrata e verrà restituita a legittimo proprietario. Inoltre al giovane è stata elevata una multa per aver violato le restrizioni anti-Covid. Voltiamo pagina con il calcio di Serie C. torna allo spauracchio delle partite truccate relativi alla stagione 2018-2019 tra gli incontri sospetti anche Troina Rotonda del 3 aprile 2019. Donato Valvano. Torna ad alleggiare lo spettro delle partite accomodate in Serie D. Questa volta sotto la lente di ingrandimento della Procura federale della FIGIC c'è finito il Rotonda insieme ad Acireale, Santomaso, Gela, Licata, Alcamo e Marsala tutte accusate di aver raccomodato una decina di partite del campionato di Serie D nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020. Tutto partito da un'indagine della squadra mobile di Enna che ha portato alla trasmissione alla stessa procura FIGIC di un fascicolo di 32 pagine dove risultano coinvolte 27 tra calciatori, dirigenti, tesserati vari e dirigenti. Nello specifico il Rotonda sarebbe stato coinvolto nell'indagine in merito alla partita del 3 aprile 2019 contro il Troina. Secondo il procuratore federale Giuseppe Chinè l'allora dirigente del Troina Silvestro Dario Dell'Arte avrebbe concordato con l'allora presidente onorario bianco-verde Franco Bruno di combinare l'incontro ed assicurare dietro corrispettivo di una costicua somma di denaro 34.700 euro la rivittoria al Rotonda. La somma appattuita sarebbe stata messa a disposizione da una società gestita dal figlio del presidente Franco Bruno Vincenzo Bruno. Agli atti risulta indagato anche l'attuale tecnico bianco-verde Davide Boncorem che all'epoca dei fatti era l'allenatore del Troina. Secondo l'accusa l'allenatore palermitano sarebbe venuto a conoscenza del tentativo di combine direttamente da Dell'Arte e avrebbe deciso di non sedere in palchina. Nonostante la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo dai siciliani l'allenatore in seconda del Troina Ciara Midaro ha operato una sostituzione togliendo dal campo un giocatore classe 2000 inserendo un classe 1999 facendo decadere così la regola degli under determinando la vittoria a tavolino per 3-0 in favore del Rotonda assegnata dopo il ricorso presentato al giudice sportivo. Sulla partita in questione indagati anche il calciatore del Troina Gianluca Raia ed il direttore sportivo Rosso-Blu Giuseppe Calaciura per omessa denuncia. Deferite le due società per responsabilità diretta. Oltre alla partita contro il Rotonda la procura federale della FGC ha già indagato anche su un'altra decina di partite che ha visto coinvolte diverse società del campionato di Serie D del Girone I. Restiamo al calcio di Serie D. Due recuperi dal finale. Amaro per le Lucane impegnate ieri pomeriggio nel Girone H. Lavello bloccato sul pari allo russo dall'Altamura. Da un invantaggio al ventinomesimo con El Wasni. con una girata da pochi passi dopo un'azione in area murgiana gialloverdi che vengono ripresi nel secondo tempo da un gol di tedesco su calcio di rigore al diciannovesimo concesso per un fallo di lungo ai danni di Baragini. Sfuma così il sorpasso al Picerno che pure nella giornata di ieri ha visto non omologare dal giudice sportivo la vittoria per 2 a 1 ottenuta domenica scorsa contro il Bitonto. La società neroverde ha infatti presentato preannuncio di reclamo. Beffato nel finale anche in rotonda nello spareggio playoff del Girone I contro il San Luca. Perso di misura. La rete della formazione calabrese arriva al quarto minuto di recupero e porta la firma dell'ex potenza Levec. Non erano le uniche gare di recupero disputate ieri nei gironi H e D. Andiamo a vedere il quadro completo nelle partite e la classifica con l'aiuto delle schermate. I risultati dei recuperi del Girone H di Serie D. Casarano-Nardò 2 a 1 Gravina-Reala-Versa 2 a 1 Lavello-Altamura 1 a 1 Questa la classifica aggiornata Taranto sempre in testa con 54 punti segue il Casarano a 48 Picerno e Andrea 46 Lavello 45 Bitonto 41 Altamura 40 Molfetta 38 Nardò e Cerignola 37 Sorrento 35 Fasano e Francavilla 27 Relaverse e Brindisi 25 Gravina e Puteolana 20 Chiude il Portici a 19 I risultati dei recuperi del Girone I di Serie D Dattilo-Licata 2 a 0 Rotonda San Luca 0 a 1 Questa la classifica aggiornata con Messina sempre in testa con 59 punti Segue la Gelbison a 53 FC Messina 52 Acireale 44 San Luca 41 Dattilo 39 Rotonda e Biancavilla 38 Santa Maria Cilento 33 Licata 32 Troina e Paternò 31 Cittanovese Castrovillari 30 Sant'Agata 28 Rende 27 Ragusa 23 Chiude il Roccella a 15 In chiusura c'è il basket La Basilia Potenza continua a stupire Seconda vittoria consecutiva E sabato la sfida La capolista Salerno Luigi Santopietro Secondo ruggito per le Leonesse Dopo la vittoria di Cercola La Basilia nasce un sorriso Concede il bis e batte a domicilio il Catanzaro Godendosi la seconda vittoria consecutiva La partita però è combattutissima Soprattutto nel primo quarto Che si chiude 17 a 14 Per le padrone di casa Seconda frazione di gioco Che inizia con una Basilia più contorta e legata Le calabresi ne approfittano E sul 17-18 fanno registrare l'unico vantaggio Luongo butta dentro forze fresche dalla panchina Scelta non facile Ma che premia il coraggio del tecnico Il Potenza va al riposo lungo sul 31 a 21 E un bel più 10 da difendere Nel terzo quarto in campo il quintetto titolare Carosio, Panteva, Gomez, Imperiale e Tolardo Ma il Catanzaro non molla E frazione fissata sul 46 a 37 Negli ultimi dieci minuti di gioco Esce fuori tutto il carattere La voglia di vincere della Basilia Che in maniera magistrale fa male in attacco E concede poco in difesa Il match termina 66 a 52 La nasce un sorriso Porta a casa la seconda vittoria consecutiva Con la classifica che inizia a sorridere Quinto posto con quattro punti in sei gare disputate La sensazione è che da adesso in poi ci sarà da divertirsi A partire da sabato Quando le Potentine faranno visita alla capolista Salerno E per questa edizione è tutto Prossimo appuntamento con informazione regionale Con il TG Flash delle 17 Grazie per essere stati con noi E buona giornata Grazie per essere stati con noi